Nessuno lo conosce. Lui esiste, è vivo, sovrasta la città, è dannazione e beatitudine, è il più grande degli uomini. Il Dottor Mabuse, Dottor Mabuse Der Spiller, è un film muto del 1922, diretto da Fritz Lang, tratto dal romanzo omonimo di Norbert Jacques, Dottor Mabuse Der Spiller, 1921. È una delle pellicole più celebri del cinema espressionista tedesco e rappresenta una sorta di fotografia della decadente società tedesca della Repubblica di Weimar. Il film dura 270 minuti, per cui lo stesso Lang lo divise in due parti. Chi è il Dottor Mabuse? Non c'è nulla al mondo che sia durevolmente interessante tranne giocare con gli uomini e con i loro destini. Il Dottor Mabuse è un genio criminale a metà tra Fantomas e Fu Manchu, decisamente abile nel manipolare gli altri per fare loro perseguire i propri scopi. Mabuse è un boss del crimine, crudele, arrogante, che non esita ad utilizzare le persone come sue pedine. Il suo scopo ultimo è abbattere le istituzioni democratiche per creare un regno del terrore completamente dominato dal crimine, con lui a capo. Può essere definito come un antesignano dei moderni supercriminali, per portata delle capacità e degli obiettivi che spesso interessano l'intera nazione. Infatti, oltre ad un intelletto brillante al pari di un professor Moriarty, è un genio dei travestimenti ed un formidabile ipnotista, capace di far vedere agli altri cose non vere e a spingere la mente umana alla follia. Molte volte, appunto, i suoi piani coinvolgono una qualche forma di controllo mentale che gli permette di piegare la volontà altrui ai suoi voleri. Viene rappresentato come la quintessenza del male in forma umana, al punto che i suoi adepti credono che egli non possa morire, quasi fosse un male metafisico destinato a piegare per sempre l'umanità, riflettendo l'evoluzione della patria tedesca del regista Fritz Lang nel corso delle decadi. Mabuse diventa di volta in volta una metafora della corruzione, del nazismo, della criminalità intesa come cancro sociale che danneggia la sanità mentale dell'umanità.